Lunedì, in seconda convocazione, il Consiglio Comunale di Battipaglia, dopo che lo scorso 11 marzo l'assise è caduta per la mancanza del numero legale. Dunque si riprende lunedì nel pomeriggio con le interrogazioni e con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, pari a 40.000 euro. Tra i punti, la determinazione degli orneri di urbanizzazione, la verifica nella formazione del bilancio 2019 per l'amministrazione della Sindaca Cecilia Francese, della quantità e qualità di aree fabbricate da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di proprietà o in diritto di superficie con la determinazione del prezzo di cessione per l'anno in corso. Poi la richiesta di approvazione del nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio dei ragazzi, la mozione del consigliere Giuseppe Salvatore con oggetto spazio studi per i giovani battipagliesi nella biblioteca ed ancora la proposta deliberativa che è come oggetto il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie.